amici bentornati su canale 9.000 giri elaborazione autosportive oggi parliamo di una diciamo di una situazione tecnica dove ogni tanto ci siamo dovuti confrontare ci siamo trovati con delle problematiche un pochino diverse rispetto al solito allora faccio una premessa abbiamo come abbiamo fatto in tante altre occasioni è fatto una modifica su una turbina di un'opela da messe per cui uno stage 1 quindi revisione del turbo gira antinavinal chi di lubrificazione maggiorato ovviamente avendo la macchina smontaggio montaggio in questo caso appunto abbiamo iniziato ovviamente smontando la turbina e quando abbiamo aperto il turbo ogni tanto capita perché sono cose che non sono così infrequenti all'interno del carter caldo della turbina che questa parte qui c'è una crepa esattamente quale si vede c'è una crepa esattamente qua questa crepa qua dalla quale ovviamente questo è il pezzo originale della macchina dalla quale ovviamente c'è una perdita di pressione queste sono cose che non sono così anomale cioè capita questa è una garret fra l'altro capita che sulla parte calda cioè sulla parte della turbina che subisce delle temperature molto elevate e soprattutto in quel punto dove c'è la chiusura si crea appunto una crepa dalla quale fuoriesce il una parte di pressione quando succedono queste cose diciamo al di là del lavoro che ci viene commissionato quando succede avvertiamo il cliente e dobbiamo ovviamente sostituire il carter caldo la chiocciola in sostanza con una chiocciola nuova quindi su quello non possiamo fare altrimenti perché la parte del carter caldo nella modifica non viene toccata ma deve essere ovviamente perfettamente efficiente se no facciamo una modifica sulla parte del carter freddo e se c'è una crepa chiaramente tutto il lavoro che noi facciamo va chiaramente a farsi friggere il motivo di questa diciamo la parte del discorso particolare di di questa di questa macchina è che questo tipo di turbina parliamo del fatto che di codici solo gare ce ne sono più di 2000 quindi non è che la turbina garete ci sono 45 codici sono tutti uguali noi ci sono veramente più di 2000 e rotti codici diversi purtroppo per un determinato tipo di turbina montato su non tantissime macchine perché ce ne capitano poche però non è solo la opel adam che utilizza questo sistema poco secondo me poco intelligente da un certo punto di vista cosa succede il carter caldo della turbina è un corpo unico con il collettore di scarico cioè questo è il collettore di scarico con i quattro condotti che portano i gas di scarico direttamente alla chiocciola del turbo quindi quando succede un problema di questo genere più che altro per l'economia del cliente non tanto per noi il pezzo lo dobbiamo cambiare per forza ovviamente avvertiamo prima il cliente gli diciamo guarda c'è questo tipo di problematica gli lasciamo poi il pezzo chiaramente in macchina in modo tale che lui possa controllare gli mandiamo le foto gli mandiamo tutto lì purtroppo abbiamo dovuto cambiare non solo quello che è la parte del carter caldo che aveva avuto un costo x ma tutto il pezzo con un costo che si è più che triplicato perché ovviamente un conto è prendere diciamo solo questa parte e un conto invece prendere una parte molto più ampia molto più complessa che ha un costo decisamente diverso quindi quando capitano questo tipo di problemi andando a lavorare sulle turbine è sempre meglio che capitano su turbine che sono scollegate in termini di fusione dal collettore di scarico perché per ben nuovi motivi il costo ripeto sono casistiche che non sono così infrequenti però un conto è cambiare un pezzo che costa non so 100 euro diciamo un buttato lì una cifra a caso un conto è cambiare un pezzo che per mettere a posto quel pezzo bisogna far spendere al cliente 400 euro quindi c'è una bella differenza questo per dire che anche meccanicamente purtroppo chi progetta determinati componenti potrebbe essere un pochino più lungimirante perché qui bastava è vero il collettore è molto ravvicinato rispetto alla cioce del turbo ma qui bastava fare una flangia in questo punto una flangia di raccordo come esiste in tutte le stragrande maggioranza delle turbine in questo caso nel momento in cui uno deve sostituire quel pezzo svita la parte del carter caldo sostituisce solo il carter caldo e la parte del collettore rimane perfettamente utilizzabile in questo caso questo pezzo che poi daremo al cliente il cliente butterà via tutta questa parte qui che assolutamente non ha nessun tipo di problema però è inutilizzabile perché ovviamente è un pezzo unico quindi diciamo che questa puntata riguarda proprio così se vogliamo delle delle anomalie o degli studi tecnici che in alcuni casi chi progetta le turbine e chi progetta appunto la parte motoristica potrebbe utilizzare dei criteri migliori dei criteri un pochino più lungimiranti evitando di nel momento in cui vengono fuori dei problemi evitando di far spendere poi per il ricambio per la sostituzione delle cifre molto più elevate io direi se avete qualunque tipo di questione qualunque tipo di domanda lo vedo poi nei commenti ai quali io come al solito rispondo a tutti vi chiedo come al solito di cliccare sulla campanella in basso e soprattutto di iscrivervi al canale per aiutarci a crescere sempre di più e rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima